con abramo orlandini il nuovo pittore di stato dello sgarbistan così ha detto vittorio sgarbi ringrazio il professor sgarbi che appena va vicino al dottorari perché per l'intervista video si è trovato su di me incomincio a chiedermi i quadri però datti qualcosa di più per io campo con una pittura di 290 ecco con i quadri come siamo messi e incomincio a chiedermeli però ho messo di qualcosa agli amici produco e qualche giorno che sono un po un po in letaggio però poi ne fatto 5 6 la volta a pennello fuma pure fuma pure adesso compro i cigarrini così fumo meno fumi meno bene ascolta è giusto per capirsi se qualcuno fosse interessato ad acquistare un tuo quadro cosa deve fare niente intanto io sono alla mattina in via farini pomeriggio in via farini dalle cinque mesi in poi sono a cavour con la sfumateria sotto l'isolato santo diamo un'idea anche dei prezzi delle opere così faccio ti facciamo un po di pubblicità beh io noi prezzi poi concordiamo sono accessibili sono accessibili sono accessibili sono accessibili poi esso faccio ritratti però dobbiamo aumentare un po dobbiamo mettere faccio ritratti metapidiche surreale secondo che uno mi chiede molto bene ringrazio la città di rezzo e poi anche con zironi forse andiamo a fare un film a roma un nuovo film con giuseppe zironi grazie a te ciao ciao grazie